Attenzione! Sono quelli delle medie, di esseri più malvagie che un supereroe possa incontrare! Siete proprio scemi! Lo sanno tutti che le tette più belle ce l'ha la mamma di Kiefer! Ehi, basta parlare delle tette di mia mamma! Perché non mi obblighi, burrufolone? Andiamo al cinema, forse in Wonder Woman si vedono un po' di tette! Che palle il cinema! Andiamo a giocare a basket! Che due coglioni il basket! Ehi, lo so, andiamo a picchiare uno scogliattolo! Ehi, l'abbiamo picchiato ieri uno scogliattolo! Ehi ragazzi, volete vedermi ballare ancora un po'? Chi ha mai detto che sai ballare? La stessa cosa che ha detto tua madre prima di lasciarmi toccare le tette! Guardate qua, fighette! Guarda qui, zio! Questo l'ho imparato da Asher, stronzi! Prenderò a calcio in culo te e poi quella stupida rana! Le rane non hanno il culo, hanno la cloaca! Ti compro le spalle! La giustizia volpeggia nel cielo! Nessuna pietà! La situazione si ribalta! Taci, piccoletto! Chi è il prossimo bersaglio della mia furia incontrollata? Lea, che schifo! Potere, aquilone! Li copro io! Non morire, novellino! Sì, è stato fantastico! Riempirvi di botte è davvero terapeutico per me! Mi sa che quello faceva male! Assaggiate l'ira di... Aquilone Man! Più più! La figata di essere aquilone è il laser! L'hai messa alle conti! Il bullo è stato bullizzato! Sono ancora io il bullo! Yeah! So come ci si sente! Oh, tocca a me! Ok! Aquilone Laser! Sono uno spettacolo! Wow, che coraggio! Wow, l'hai davvero battuto! Mi hai salvato! Wow, ottimo lavoro! Hai steso uno delle medie! Avanti! Vuoi davvero un selfie con me? Vederti sconfiggere quelli delle medie è stato fego! Un giorno diventerò anch'io come te! Presto ti troverai alla fortezza della solitudine di Super Craig! Super Craig non si è ancora visto! Speriamo bene! Novellino! Hai raggiunto la fine dell'universo conosciuto ormai! Più avanti c'è solo il limite dello spazio-tempo! Salve cittadini! Sono io! Super Craig! Mi spiace ma al momento non posso occuparmi d'altro! Super Craig non trova il suo porcellino d'India! Dio al procione che senza striscia non gioco! Quel porcellino è mio ed è il mio ex fidanzato! Proprio così! Super Craig! È gay! Scommetto che striscia è di nuovo nel sottoscala! Partiamo dal semi interrato! L'ultima volta l'ho visto lì! Forse hai sentito l'odore del cibo per cani di sotto! Starò vicino alle scale così non fuggirai! Tu pensa al resto! Attento! È la missione più pericolosa che ti abbiano affidato! Oh figo! Eccolo lassù! Nel condotto! Sì in alto! Oh quasi! All'uncora! Oh eccolo! Segui quel porcellino! Hai distrutto quella scatola come se niente fosse! Incredibile! Colpisci la scatola con quell'affare! Ma che cazzo? Non riesco a credere che te lo abbia fatto davvero! Sei troppo forte! Leva quell'affare di mezzo! Oh sembrava davvero molto difficile! Usa il potere del tuo culo per sballare il suo super olfatto! Sei striscia! Bel salvataggio! Ma devi ringraziare anche Petoman il suo culo nauseabondo! L'hai fatta novellino! Se ti servisse aiuto, conta su Super Craig! Striscia è il miglior super compagno che Super Craig voglia! E chi non vorrebbe un selfie con il Craig acciaio? Super Craig senza striscia è come Super Girl senza bici! Oh merda! È finita! Ssss! Novellino! Ehi, ciao! Sei amico di Craig? Stai cercando Craig? Io, diciamo che sono un collezionista di una forma d'arte orientale moderna e molto confusa, nota come yaoi! Assurdo! Vale una fortuna con il giusto compratore! Se ne trovi uno durante le tue avventure, portamelo! Ti saprò ricompensare! Portami i pezzi che riesci a trovare! Non male, novellino! Così si fa! Hai portato nuovi follower su Procintagram! Sei pronto per il livello successivo! Torna al covo del procione! Passo e... Fuzziti! Fermati! Novellino! Li vedi quei mattoncini Lego rossi? Quella è lava! Se ci passi sopra, crepi! Non la toccare! Ma non ha alcun senso! Chi ha messo della lava? Prendete questo! Professor Chaos! Sì, procione! Io ho messo della lava in alcuni punti della città! Se no, così era ben troppo facile! Che sarebbe il mondo senza un po' di... Chaos! Ok, ora spegnilo! Ci occuperemo di Chaos più tardi! Per ora, concentriamoci sulla preda! Passo e... Fuzziti! Guarda qui, zio! Questo l'ho imparato da Asher, strozzi! Voi cazzoni non ci... Tu, mamma... Ah, ecco ti, Petome. Essere un supereroe è più duro del previsto? Tranquillo, sei davvero una superpippa, ma mi fai un po' pena perché... tuo padre si è fatto tua madre quando eri piccolo. Ora vieni qui. Ti spiego come funzionano i manufatti. Molti eroi aumentano le loro abilità con attrezzature specifiche. Vedi questo? È un manufatto della forza. Ce ne sono molti in giro per la città. Il trucco è utilizzarli nei tuoi slot manufatti. Avanti, provaci. Ogni manufatto ha uno slot specifico in cui equipaggiarlo. Con questo migliori le tue statistiche di forza. All'inizio ti darà fastidio, si fonde con il tuo DNA. Troverai altri manufatti durante le tue superavventure e potrai crearne alcuni. Ma ricorda, da grandi poteri deriva un mare di soldifica. Sei pronto ad affrontare quelli delle medie? Fagliela vedere. Petome. Il progettore è stato appena aggiornato. Vieni a trovarci. Ultimi acquisti. Arrivederci. Il progettore. Fatti una supereroina, su Non sono qui per farti davalia Ho detto di lasciarlo stare, cazzo Toccalo ancora e moriremo tutti Hai trovato la postazione di viaggio rapido Cercane, ho altre, ti aiuteranno Qui, Micio, qui, Micio, Micio, Micio Lanciagli un sasso No, glielo tiro io, un sasso Dove sono quelli? Lanciategli un petardo, invece No, quelli costano un botto, dammi il sasso Brutta fighetta, accendili, cazzo No, voglio lanciarli Ehi, è di nuovo quello di Quart Adesso ti do una bella lezione Dobbiamo davvero affrontare quelli delle medie? Nessuna pietà, ragazzi Bei vestiti, idioti Vediamo che sai fare, novellino Pegliatemi quando tocca a me Lascerò delle cicatrici Ha diversi problemi E darti un pugno è uno dei più facili Già, me l'ho aspettato È il mio turno ora Ha incassato da campione Non male per dei piscialletto delle elementari Te lo ha massaggiato il tuo ragazzo Che si fa all'azzerare? Per te! Sono tornato! Ok, partiamo Questo potere non fa danni Crea uno scudo che fa incogliere No, questo sì che era un colpo al Lego Tocca a te, analblast Prendete la medicina, babbocci Ci sono sempre per fare il culo ai bambinetti Ehi, non guardare, idiota Volo nella brezza della giustizia Tocca a me Continuti Adesso sei nei guai Ti tormenterò oggi Scelgo te So cosa ti piace Ora ti metterai a piangere? Pula! Più, più! Lo vedo bene Oh, tocca a me Mega pugno! Abbiamo menato quelli delle medie Ok, quello era da duri Bella squadra! Oh sì, alla grande Tutti devono sapere che il procione e i suoi amici hanno battuto quattro delle medie È ottimo per il franchise Meno per te, Novellino Perché quelli delle medie ti faranno il culo Non dovevi farlo, è stato stupido Ok, ora recuperiamo degli altri follower Il sistema finanziario globale è in fiamme Avrei compilato la sezione Kriptonite Sei invincibile? Sto cazzo è contro le regole Devi avere un punto debole Vai da Mosquito Ti aiuterà lui Ti do il resto per la scheda personaggio sulla mappa Ora vai là fuori a fare il supereroe Così riempi la tua scheda personaggio Benvenuti da Freeman's Tacos Se c'è qualcosa che posso fare, beh... Fatemelo sapere Benvenuto al Freeman's Tacos Quando sarai più bravo, Morgan Freeman, si farà un selfie con te Adoro questo posto Puoi creare tutto il cibo che vuoi Da Freeman's Tacos crei tutto quanto tu Lo sapevi, no? Che puoi creare tutto Combina gli ingredienti e crea ciò che vuoi Iniziamo da un classico Il burrito Una tortilla calda avvolta attorno a... Beh, qualsiasi cosa Ecco tutto quello che ti serve per cominciare Questo è l'indicatore del cibo per riempire la tortilla Ora... Ottimo lavoro Combina gli ingredienti e crea ciò che vuoi Guarda Guarda che succede Combinando un burrito con un'encilada Niente male e complimenti Hai mischiato un'encilada con un burrito È un encilito Nessuno l'aveva mai fatto prima d'ora Che diavolo Prenditi altre ricette Potrebbero sempre salvarti il culo Potrebbero sempre salvarti il culo Potrebbero sempre salvarti il culo Potrebbero sempre saluto Ncat terrädare Per riflessio Quoria Fu L'envolucentar Quasi Qui Qui Quasi Quasi Qui Allo Quasi 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 Ma è un'altra cosa Ho sentito che alcune scoregge possono essere così potenti da piegare lo spazio-tempo Fai attenzione là fuori Voglio fare un selfie con me, ok Oh davvero questo aspetto Sevi unirti a un gruppo di studio, il mio è pieno Fai i selfie con i bimbi piccoli o li picchi solo? Uhu Sì, ora siamo videoamici Congratulazioni! Il tuo sistema di viaggio rapido è completamente operativo Trova altre impostazioni per espandere la tua rete E se finisci le guai, c'è fa pass pass, ciao!